Siamo arrivati allo strumento penna, uno dei più odiati dai principianti e uno dei più utilizzati dagli esperti. Ora, una volta che lo selezioniamo, selezioniamo la prima istanza, poi andremo a vedere anche le successive, la prima cosa che dobbiamo vedere è le impostazioni di tracciato o di forma. Se impostato su forma, lo strumento penna non fa altro che creare delle forme. A questo punto abbiamo qui una forma vettoriale, comunque basata sul tracciato, a cui possiamo cambiare liberamente il colore. Se andiamo nei tracciati, abbiamo il tracciato della forma che abbiamo fatto. Ora lo cancello. Quello che ci interessa di più però è il tracciato vero e proprio, ovvero senza il riempimento fondamentalmente. Qui abbiamo delle opzioni per dirgli come si deve comportare il tracciato con altri tracciati che abbiamo già tracciato o che andremo a tracciare. Una cosa molto importante è questa, l'opzione della banda elastica. Se io la disattivo, vedete che io traccio e non vedo sostanzialmente niente dei passaggi successivi. Se però io vado ad attivare la banda elastica, nel momento in cui creo un punto, vedo il mio tracciato dove si sarebbe posizionato in un determinato punto. Nel momento in cui clicco la prima volta, creo il primo punto, il punto di partenza. Clicco una seconda volta, creo un altro punto e ho creato una linea retta. Se invece di cliccare e basta, io clicco e tengo premuto, posso a questo punto trascinare e vado con queste maniglie a creare una linea curva. A questo punto, sempre senza rilasciare il mouse, se tengo premuta la barra spaziatrice, posso spostare il mio punto mantenendo la curva, lascio la barra spaziatrice e posso posizionare il mio punto. Di nuovo creo un altro punto, di nuovo creo una curva, di nuovo premo barra spaziatrice e posso spostare il punto, di nuovo rilascio la barra spaziatrice e posso aggiustare la curva. Una volta che ho fatto questo, tenendo premuto command, posso passare alla freccia. La freccia mi permette di andare non a creare un altro punto, ma di agire sulle maniglie singolarmente, come potete vedere. Una volta che io ho creato delle maniglie, vedete che la curva tenderà a proseguire seguendo, diciamo, il ritmo della maniglia che gli ho dato precedentemente. Nel caso io qui volessi procedere in linea retta spezzando questa maniglia, tengo premuto alt e clicco sull'ultimo punto di ancoraggio. In questo modo ho annullato la maniglia e posso procedere in linea retta. Una volta che ho finito di comporre il mio tracciato, torno sul punto di partenza, compare questo simbolino e il mio tracciato è finito. A questo punto posso fare una serie di cose, posso trasformarlo in una selezione per creare una maschera, che è l'utilizzo che si fa la maggior parte delle volte, oppure posso andare a creare, posso andare a creare un livello tinta unita e quindi riempirlo con un colore. Ci sono una serie di cose che si possono fare. Ovviamente l'applicazione più utilizzata è quella dello scontorno, perché questo è lo strumento che più di tutti mi permette di andare a creare uno scontorno fedele e preciso. Adesso io qui ne faccio solo un pezzo a fini dimostrativi, non la sto a fare tutta, perché purtroppo questo strumento è tanto preciso tanto quanto richiede tempo. Vedete che non è immediato, non è uno strumento di selezione veloce, qui si tratta di andare a prendere le forme facendo proprio ogni minima curva, ogni piccolo passaggio. È un procedimento che all'inizio può sembrare lungo e noioso. Se sbaglio ovviamente premo comandi x e annullo. Da questa visualizzazione se tengo premuta la barra spaziatrice posso spostarmi per vedere meglio l'area su cui sto lavorando. E continuo con la mia selezione, in questo caso non mi piace, allora tengo premuta la barra spaziatrice e mi sposto qui. C'era qualcosa che non andava col punto di ancoraggio prima, allora io annullo questa maniglia e così posso continuare. Ora non sto a farvelo tutto, però capite che uno strumento di selezione di questo tipo condurrà inevitabilmente a una selezione più precisa del nostro soggetto e quindi le nostre manipolazioni ne beneficeranno in maniera incredibile, perché un soggetto isolato in maniera efficace è il primo passo per creare una manipolazione credibile. Quindi questo strumento è assolutamente da preferire agli strumenti di selezione veloce. Ok, avevo detto che non l'avrei fatto, invece l'ho fatto lo stesso. Una volta che abbiamo creato la nostra selezione il tracciato rimane qui, dobbiamo però andare a salvarlo, quindi io gli dico salva tracciato e l'ho imposto come tracciato di ritaglio. A questo punto lo deseleziono perché sennò continuo a vederlo qui e non lo voglio vedere perché mi disturba. Ora come potete vedere la selezione è assolutamente netta e precisa, probabilmente troppo, per cui facciamo doppio clic sulla maschera e gli andiamo a dare due pixel di sfumatura. Insomma vedete voi perché questo dipende dalla risoluzione dell'immagine su cui lavorate. Ecco, due pixel qui forse è anche troppo. Proviamo uno. Sì, preferisco. Ora come potete vedere questa è una soluzione che funziona benissimo per le forme nette, non funziona per i capelli. Per questo sì, certo, è una soluzione provvisoria ed è comunque meglio che avere uno sciame di pixel qui intorno, a parer mio, però come potete vedere gran parte dei dettagli vanno persi. Questi possono essere ricostruiti con un pennello fatto apposta oppure possono essere in qualche modo recuperati con i metodi di fusione. Lo vedremo in un altro video perché è un argomento su cui c'è da discutere ampiamente.